buongiorno signori allora scusate il leggero anticipo perché sono le 21.02 abbiamo detto che la live era alle 21 quindi sono in anticipo non in ritardo siete voi che siete venuti non ero sbagliato perché il duca ricordate che è sempre puntuale il duca arriva sempre quando intende arrivare e oggi intendeva arrivare in ritardo e quindi arrivati in anticipo perché il duca non fa quello che dice il duca fa quello che fa e lui non sa quello che fa perché se duca sapesse quello che fa non lo farebbe che tisana posizionante anche oggi niente birra signori perché devo essere un esempio morale per tutti voi di comportamento di etica di tutte quelle balle lì di integrazione quelle bellissime cose lì no in realtà oggi non mi andava la birra mi andava la tisana mi sono fatto di nuovo questa bellissima tisana sponsorizzata da mesmer che non mi dà neanche un cazzo di euro per sponsorizzarla perché non sa neanche che esisto maledetti e quindi bene così signori saliti tisana mirtilo e zenzero allora vediamo chi c'è oggi ciao patrick patrick bella belle le domande che mi hai mandato sul libro della marx ti faccio il video per i prossimi giorni molto fighe è vero che trattiamo già la risposta in buona parte nelle lezioni del corso di sceneggiatura però fa come dagli altri quindi ottima idea ve le mandate ciao alessandra ciao mendul la pirata saracena come sempre sì puoi chiedermi se vuoi quando smetterò di prendere il culo su questa cosa la risposta è mai ciao riccardo ciao alessandra ciao daniele ciao emma ciao licia cristina alex mi sono accorto ora che oggi è martedì dice alex oggi è martedì non è martedì è sabato pomeriggio come dice patrick patrick vi deve veramente spiegare tutto assurda questa cosa meno male che c'è patrick ciao caterina ciao marianna soldano secondo voi come si veste stasera è come scoperto sono in camicia vogliano regolare non abbiamo fatto il sondaggio niente costumi strani per le corsiste che mi vogliono con strani costumi devono prenotare sessioni di 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 insegnamento privati in motello altre robe no ma in realtà no comunque è bene così riprenderemo più avanti con la cosa della della scelta di cosa bevo eccetera solo che non sono in vena di birra quindi direi inutile farvele affinché non torno in vena ciao remone 72 ciao bacio ciao il danoff che mi soddisfa sempre sempre il danoff pronto pronto a soddisfarvi con la sua natura di ucciallo infuocato bene abbiamo detto la nostra dose di cose gay per essere inclusivisti allora 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 ciao lorena ciao daniela ancora secondo me si mette l'orologio con tre cinturini e senza quadrante esatto assolutamente e lo guardo come se fosse un orologio così non c'è l'ora non c'è l'ora bene ciao luca metal oh due dicembre e partono le spedizioni di venezia metal eh visto che figo visto che copertina sei contento è abbastanza metal per te ah vi ricordo non ve l'ho ancora parlato perché in realtà è il video che lo faccio uscire per il 2 o per il 3 cioè per venezia metal se lo comprate su sito di akron.it c'è il le lezioni in omaggio allora per comodità perché se ne è un disastro nel senso che è un problema è un casino per akron gestire la cosa vi mandano il link con le lezioni il 7 gennaio cioè in pratica se uno compra sul sito akron il cartaceo il cartaceo di venezia metal entro il 31 dicembre entro fine anno poi ovviamente ci sono le ferie e mezzo il 7 gennaio masa di akron vi sblocca tutte le lezioni vi mando una mail vi dice dove sono visto che le lezioni comunque stanno pronte prima di natale io sto pensando chi è già corsista avanzato e ha comprato il cartaceo se me lo dice poi vi dirò come comunicarvelo vi dirò cosa dire all'ufficio gli sblocco in libreria assieme agli altri corsi che ha già gli sblocco le lezioni di venezia metal comunque verrete informati appena sono pronte le lezioni perché mi piacerebbe che voi possiate sfruttare quelle due settimane quello che è tra prima di natale l'epifania per potervi studiare quella roba se avete letto venezia metal oddio poi capisco che probabilmente è finita a leggerlo dopo per cui vabbè è solo per dire insomma che per le persone normali quelle lezioni che saranno penso boh un 7 orette hanno domunque o ci hanno impiegato solo il 44 non penso ci vorrà meno per venezia metal sono 6-7 ore quel che è le persone normali che non hanno il corso avanzato e che hanno comprato il cartaceo l'avranno il 7 gennaio gli altri potrebbero avere un paio di settimane prima se hanno il corso avanzato e se appunto fanno richiesta perché cosa importante io non posso sapere chi ha comprato il cartaceo su Akron ok? c'è anche un motivo di privacy non lo posso sapere quindi se voi non confessate non posso saperlo ok? bene signori ciao altra Alessandra ciao Paolo ciao Domenico ciao Nick Antonio il PPA non l'ho mai visto non mi ricordo chi sia non l'ho mai visto è infatti Patrick conferma il sabato pomeriggio bravo ciao Giulia Giulia Boemi Giulia Boemi ti ho già visto il nome e cognome me li ricordo ma hai comprato il corso recentemente ciao Riccardo the big fish man bravo mi piace questo nome mi piace anche l'avatar bravo ciao Jack ciao Ivan metto su una tisana nazista e vi raggiungo anch'io non ho alcol almeno per 5 minuti bravo i tedeschi scusate i nazisti danno sempre grande soddisfazione con le tisane e ogni tanto mi sbaglio li chiamo tedeschi capisco che è offensivo chiamali tedeschi però ogni tanto mi esce fuori questa cosa colpa mia non sono abbastanza inclusivista integrato socialmente coso il coso il coso il cazzo bene citando la roba di zero calcare che c'è su Netflix allora che altro c'è qua ciao Camilla ciao Federico adesso partiamo ciao altro Federico ciao Lorenzo benissimo allora ultima notazione vi ricordo che abbiamo le offerte del Black Friday quelle offerte del Black Friday sono tarate sulla fascia del risparmio quindi fascia bassa dei prodotti quindi non vi viene fatto il mega pacchetto gigante super risparmio da 1700 euro vi vengono fatti i pacchetti risparmio da 500 700 e 1000 euro ok per i super pacchetti quelli che partono da 1000 salgono verso l'infinito e oltre vi potete aspettare a Natale non lo so una settimana prima di Natale vi faccio partire non lo so ormai c'ho la fissa che voglio fare i lanci un po' più corti quindi poi vedo il calendario e decido che cacchio ne so ok e alta notizia per chi si è perso il video sul Black Friday chi compra adesso con l'offerta attuale del Black Friday ha poi la possibilità di fare l'upgrade pagando semplicemente la differenza con le offerte di Natale che essendo tutte quante più grosse non c'è il problema del devo scambiare no semplicemente sono prodotti in più pagando un po' di più e chi invece non approfitta di quest'upgrade entro il 31 dicembre 2012 facendo quest'upgrade con l'offerta di Natale cacchio che volete o l'upgrade con l'offerta del Black Friday che magari avete preso a 500 e vi pentite e dite oh mio dio che pentimento che dolore voglio cambiarla con la 1000 gli faccio pagare la differenza chi non ha fatto questa ha comunque congelato per tutto il 2021 un'offerta scandalosa è tutta spiegata nel dettaglio nella pagina di vendita link qua sotto ok il video tipo se comprate il corso single a 500 quello che normalmente costa 700 avete la possibilità di aggiungere codi sceneggiatura per tutto il 2022 pagando 300 euro in più quindi totale 800 non è buono come comparlo adesso a 700 ma considerando che probabilmente dopo qualche mese nel 2022 la combo scrittura più sceneggiatura salirà incluso lo scu incluso lo sconto scusate a 1200 euro io direi che è un prezzo enormemente vantaggioso avere un fuori offerta con un prezzo così ridicolo e ci avete un anno per riscattarlo quindi se ci avete qualche dubbio del tipo oh mio dio devo mettere a parte i sordi e altre cose così ma piuttosto prendetevi adesso il corso singolo con durate e poi quando ci avete soldi per fare l'upgrade vi fate l'upgrade a Natale se potete se no ci avete delle opzioni di upgrade che non sono che arrivano fino ad avere il pacchetto delle analisi e le approfondimenti e per chi non ce l'ha ancora analisi di anno dell'obuncolo ve lo potete tenere step grade fino a tutto 2022 è conveniente ok signori quindi insomma se ci avete un po' di dubbi altre cose fate la prova poi c'è anche una garanzia di 90 giorni non siete sicuri che vi può piacere il mio corso vi prendete al 500 anche con le rate se vi pare ve l'ho guardato un mesetto due mesetti capite se veramente vi trovate bene o non vi trovate bene poi se non vi trovate bene chiedete il rimborso cioè nessuno si è mai non trovato bene però anche qui se siete timidi c'è il rimborso 90 giorni non vi chiediamo un cazzo via date lì fate guardate se avete voglia di fare le zecche che fanno finta di comprare ma che vogliono restituire potete fare così certo poi vi dovete vergognare per un problema vostro se invece onestamente non vi trovate bene buon per voi nel senso non tanto buon per voi perché vuol dire che poi siete gli scrittori che fanno cagare però va bene così ok non siete timidi se avete il timore di rimanere delusi non vi si chiede un cazzo arrivate e dite voglio un rimborso e la risposta è sì signore il segretario risponde sì signore dacci qualche giorno e ti arriva il rimborso fine o se l'avete fatto con pagamento su paypal diventa sì signore paypal ti ridarà i soldi ma ci potrebbe impiegare anche fino a un mese non è colpa nostra semplice no? chiaro? ci siamo? bene allora signori effettivamente entro il 2012 è difficile salve entro il 2021 però se ecco se riesci ad approfittare dell'offerta entro il 31 dicembre del 2012 ti regalo gli archivi di mentalità e marketing tu dimostrami con un dato tipo un bonifico che l'hai fatto entro la fine del 2012 e ti regalo l'intero archivo quindi ottima challenge attivata chi riesce a viaggiare nel tempo a compare i corsi viaggiando nel tempo gli regalo una roba grande il corso di Carmelo nuovo non l'ho ancora visto me l'ha sbloccato devo ancora vederlo anche perché è carino mi sembra molto carino e volevo vedere se gli va di fare anche lui un'intervista da mettere come bonus in strategia anti blocco ho visto quante due interviste da aggiungere perché vi sto riempendo quella roba di un modo schifoso buon dio io perché vi io non so perché vi regalo le cose io mi devo vergognare passo il tempo regalandovi le robe bene fantastico ah ciao Ilaria eccoti qua bene allora ci siete tutti Ivan Ilaria Ceterico Fianato Federico sì ho salutato tutti mi sembra vi ho spiegato le robe a spiegare iniziali buono ci siamo quindi adesso devo fare la condivisione per farvi vedere il pdf con gli esercizi datemi un secondo ok sembra funzionare io direi che possiamo partire con gli esercizi scusate oggi c'è un po' non sto tantanto non sto benissimo benissimo c'è un po' di respiro in gola c'è un po' sapete quando avete il pelo di cazzo in gola così capita poi quando siete no persone abituate a frequentare le palestre con tanti omoni è una cosa che succede fa parte fa parte di esercizi perché voi volete fare la panca piana le croci ai cavi volete fare la lat machine poi fate le alzate al mento con che a me piacciono un sacco quelle con la barra tradizionale magari con l'impugnatura al martello magari con gli anelli bellissimi adoro usare gli anelli e tutto quanto e poi non fate l'esercizio quello molto assolutamente posizionante che si fa anche per fondamentalmente per fare sia riprova sociale che scambiarsi un certo grado di affetto tra colleghi tra colleghi appassionati di pesi nello spogliatoio che però ti lascia un po' il raspino in gola del pelo di cazzo e non lo fate ma il vostro allenamento non è completo signori ma sapete perché tanti bodybuilder hanno il collo così largo di sicuro non è perché allenano il trapezio di sicuro non è perché compano quelle cinghie per la testa per fare quelle robe lì c'è un altro motivo perché fanno questo gesto qui e potete farlo anche voi cominciando a casa vostra una banana finché non siete esperti tenete la buccia perché magari vi si spezza in gola e vi strangolate da soli potete usare la banana senza la buccia mentre vi guarda la nonna così può verificare se state male e chiamare va bene ok molto bello bene signori vi ho dato dei consigli preziosi io dovrei farvi pagare le consulenze di allenamento casalingo ma sono generoso ve le regalo eh signori signori voi che siete abituati a raddrizzare le banane col buco del culo meno male che ci sono io a darvi questi consigli di allenamento posso cominciare con il brano siete a posto buono oh grande Daniele ti sei reso conto che con la challenge hai ripetuto l'esperimento di Stephen Gunkie del party più aggiatore del tempo sì era vagamente ispirato a quello era vagamente ispirato a quello non era proprio calcato su quello ma c'ha la vaga idea di fondo grande Daniele beh Ivan ha un'ipotesi diversa su come fare il collo grosso mi piace è a tema con Venezia Metal comprate Venezia Metal date Hackeron.it c'è Venezia Metal e c'è un 25% di sconto sul resto del catalogo quindi se vi mancano delle cose di Vaportepa mettetele usate lo sconto fate 29 euro così avete la spedizione gratuita unica cosa per chi non c'ha il cartaccio di sangue del mio sangue la tiratura è finita e voi direte ma come i libri non hanno degli invenduti altissimi di norma sì ma questi sono libri Vaportepa e a due anni di distanza all'uscita sì due anni di distanza all'uscita quindi con già le copie che sono tornate dalle librerie e quindi letteralmente abbiamo potuto vendere tutto abbiamo comunque finito Sangue del mio sangue un po' diverso rispetto a un 70% tipico di venduti però bene signori Alex sì Venezia Metal ci sarà anche in ebook adesso credo che il 2 quando esce ufficialmente dovrebbe sbloccarsi anche le ebook come scheda in Amazon e sugli altri store ho verificato ho cercato Sangue del mio sangue su IBS c'era quindi la distribuzione debba essere su tutti gli store che fanno ebook adesso credo che appaia il 2 credo 2 3 adesso non so magari se ci sono dei ritardi su Amazon non ho idea e sugli altri comunque arriva ecco l'offerta però con le lezioni è soltanto sul cartaceo perché i cartacei sono il vero problema finire cartaceo non avere il suo gruppo e non riempire il magazzino quindi io vi regalo sti mini corsi da 300 euro in pratica per l'acquisto di un libro da 15 per spingere quella roba lì in pratica Alessandra dice se avete anche gli anicoprofagi gli anicoprofagi non è con Akron ancora col vecchio editore lo trovi su Amazon senza problemi ma non è con Akron come anche Blastemat non era con Akron poi è andato fuori mercato perché non so perché il vecchio editore l'ha tirato via non ho idea ma prima o poi i risi tornano e visto che sangue di mio sangue si è fatto un sacco di fiere con tutte le coppie disponibili e sono finite al salone del libro non sono ancora arrivate le stampe per esempio alla fine dell'uomo mi sembra si è arrivata le stampe mi sembra si è in vendita quindi si vendiamo come dei porci fottuti cioè vendiamo senza ritegno uno schifo proprio noi vi racconto la cosa delle 100-200 coppie medie nella vita di un libro poi noi in 15 mesi spariamo 450 coppie di la mia vita con le Blatte e considerate che tanti dati delle librerie arrivano magari con altri altri mesi di ritardo cioè io vi racconto gli scenari apocalittici ed editoria normale poi però le cose che succedono in Akron Books e nella collana Vaporteppa è in altro mondo noi proprio andiamo a strafottere via via copie copie sti cazzi noi non siamo lo scenario apocalittico noi siamo quello che si tratta di vendita e modeste però cazzo vendiamo molto più degli altri è bene così e dire che le opere di Vaporteppa sono anche molto di nicchia oltre al fatto che più ho di gente che scarafaggi fanno così schifo che mi dicevano che leggevano ogni opera di Vaporteppa ma non riuscivano a leggere la mia vita con le Blatte e ormai mi sono capitate tre o quattro oddio considerando la ragazza in fiera quattro quattro persone che non riescono a leggere niente con gli scarafaggi un uomo e tre donne quindi vuol dire che sono una valanga di più e poi abbiamo fatto quelle 450 crop della mia vita con le Blatte minchia bene signori comunque andate a leggere Venezia Metal ah è ancora esaurito anche la fine dell'uomo a cavo non ho fatto il tempo a ristamparlo eh comprate qualcos'altro compratevi Eternal War se non ce l'avete che è carino a me piace un casino come il mondo fantastico quello che ha rappresentato il mondo dello spirito e tutto compratevi e cacchio ne so ci sono delle robe anche nell'horror c'è un libro di Musolino dico non mi ricordo il titolo Gigi Musolino c'è un sì oddio sì c'è un libro c'è un sacco di robe insomma sceglietevi qualcosa comprate altre copie di quelle di Vaporteppa li regalate vi comprate due copie di La mia vita con le Blatte regalate alla vostra prozia quella con le cataratte e al parroco il parroco quello che quando si traveste la donna sembra la vostra prozia con le cataratte bene signori ok ah non so che sta facendo ancora ah bene che ti piace Eternal Vora a me piace un sacco quel tipo di fantasy che potrebbe essere veramente ambientato nel nostro mondo infatti ho grandi aspettative per il romanzo che uscirà ad aprile maggio lo nuovo ambientato grosso modo metà 300 in centro Italia non vi do altri dettagli per adesso un titolo noir che cacchio ne so non me ne vengono in mente bene signori cominciamo l'analisi scatto in avanti e arrivo in cima alla duna le colline rocciose sono a 30 metri da noi azari e nitanno mi raggiungono indico l'altipiano siamo salvi lì i madianiti non ci troveranno mai corro giù per il pendio inciampo e cado in avanti nella sabbia gli granelli arroventati grattano la faccia e sfregano sulla barba mi sollevo sui gomiti tossisco e sputo una scarica di dolore arriva dal piede destro mi giro sul fianco il piede è coperto di sangue un brutto taglio aperto tra il secondo e il quarto dito e il sandale è rotto una punta pietrosa rossa di sangue spunta dalla sabbia merda leggiamolo tutto e poi spariamo delle bestemmie fortissime delle bestemmie vetero testamentarie però fortissime sarà azaria e non azaria azaria come zaccaria come in culatitua zia azaria mi solleva di peso e mi carica sulle sue spalle ma è meno male non sulle spalle di qualcun altro arranchiamo fino a un anfratto in penombra ad un anfratto ragazzo scrivi non ti fai mancare manco le diofoniche buon dio dovevo tassarle ad un anfratto in penombra mi siedo contro la parete di roccia di grigno e denti per il dolore azaria si strappa un pezzo alla tunica e mi fascia il piede non è il momento di riposare fratello non è manco il momento di mettere le virgole buon dio ma ce la fai? faccio una smorfia stavo per dirti la stessa cosa ah gli stavi stavi a dire ad azaria dei virgole bravo mi piace e si e poi però mi fai punto a ferro con la minuscola è un punto a maiuscola cioè il protagonista magari prima di cazziare azaria per la virgola potrebbe mettersi a maiuscole sue no? capisco che siamo a tema vettero testamentario perché magianiti mi ha subito ricordato i migianiti e altre cagate o come gacchio si chiamavano e quindi comunque siamo un po' fuori luogo facendo no? quelle robe da nuovo testamento tipo la trave nell'occhio tua eccetera eccetera però porca troia bene 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 afferro la sua mano e mi rialzo perché papà e perché fai queste costruzioni all'inglese? afferro la sua mano invece di gli afferro la mano perché la costruzione italiana tipica non è quella all'inglese non è che devi tradurmi alla lettera alle frasi inglesi che cazzo stai a fare? cioè puoi anche fare all'italiana ogni tanto sorride e mi porgio il suo arco anche qui l'arco di chi ti doverà porgere? l'arco di Carlone senza tetto con lo zampone in culo? bravo Zakai ricacciami magianiti nel deserto incocco una freccia e zoppico fuori uno schianto risuona vicino alla testa uno schianto risuona vicino alla testa? che modo di scrivere? vabbè al riparo col punto punto esclamativo e punto bello mamma mia mamma mia che bello oddio che bello mi getto a destra dietro una grossa roccia e sbircio quattro figure in piedi sulla cima della duna le loro sagome sfarfallano nell'aria due di loro roteano delle fionde va bene? tendo l'arco trattengo il respiro scocco un nemico cade all'indietro la freccia gli spunta dal petto un altro lascia andare la fionda mi butto dietro la roccia la pietra ci schianta sopra perché se non schiantava la sua roccia si schiantava sto cazzo nel muro di testo mandare a capo dopo il riparo oppure dopo sbircio e fai a capo quattro figure ma porca troia dai in cocco mi rialzo tendo scocco mamma mia perché si non è sbagliata che mi sta sul cazzo come cacchio scrivi di per sé va bene è veloce in cocco mi rialzo tendo scocco c'è il problema che abbiamo in cocco scocco che non è il massimo e che fai troppo le frasette tendo l'arco trattengo il respiro scocco in cocco mi rialzo tendo scocco spammaci un po' mi abbatto un altro gli ultimi due si acquattano dietro la duna buono sputo per terra che stava a leggere il testo nita nurla così poi la punteggiatura cazzo ogni tanto ci sono le robe ogni tanto non ci sono non seguo minimamente le indicazioni che ha visto leggendo i romanzi di Vapore Teppa non seguo che ha lezioni sui dialoghi lezioni sui dialoghi che vi ricordo che Pisi scrive la mailing list ancora adesso è accessibile come bonus in omaggio non c'è motivo di non applicarla visto che dovete applicarla per mandare esercizio non lo so a che senso ha scrivere a cazzo di cane nita nurla fatevi avanti e combattete codardi e combattete senza virgola punto esclamativo poi batte ma perché batte minuscolo che cazzo stai facendo batte la spada sullo scudo un uomo compare dalla cima compare dalla cima della collina non sulla cima compare dalla cima vuol dire che si appena botola esce vabbè teniamocelo buono aveva fatto compare sulla cima non che compare dalla cima non esce dalla cima ma arriva da dietro e finisce sulla cima però va bene anche così ce lo teniamo per buono tanto non è un problema coperto da una lunga tunica rossa ma scusa vabbè guardo dopo il cranio pelato lucica sotto il sole ammazza quanti dettagli che vede sulla collina gli altri hanno delle figurine sfumate questo vede tutti i dettagli nella mano destra regge una torcia accesa nella sinistra un anforo a collo stretto quanti cazzo i dettagli vedi ma poi perché ha la torcia si vedeva tutto perfetto sembrava giorno non è giorno no evidentemente non è giorno ha un affratti in penombra quindi c'è il sole immagino sembrava giorno vabbè c'è una torcia accesa ma è giorno ci sono un altro motivo immagino mi è avuto giusto il dubbio perché c'era un problema di giorno a notte nel testo quello del tizio che c'è la fidanzata che il fa troia quella volta scorsa in cui però era un tale disastro il testo che non serviva neanche a guardare il problema del tizio e correre la cieca nel buio dalla faggeta il faggeta è un tipo un posto dove sono i faggi non è una battuta su faggoz e gli alberi cioè non è una froceria no la froceria non è quello basta basta lo avete rotto cioè uno cerca di essere serio e fate le battute sulle persone che utilizzano che hanno pulsioni le pulsioni che hanno i nanni di casa ma voi dovete fare umorismo ogni volta non c'è niente da ridere è una cosa naturale come i leoni che inchiappettano gli altri leoni avete problemi con l'Africa siete razzisti vi prendo a sberle subsariane bene quindi piantatela con la vostra homo trans africofobia e lasciatemi lavorare che sono una persona seria bene azaria ringhia è quello che è l'uomo urla è una lingua sconosciuta molto 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 testamentario devo dire e si versa l'anfora addosso ma che siamo in tv questa è benzina adesso mi do fuoco è questo cioè stiamo veramente citando il tizio in tv solleva la torcia inizia a dondolare inizia a dondolare avanti e indietro cantilenando inizia a dondolare quindi sente la cantilena immagino perché cantilenando la fiamma diventa enorme cioè va bene che non magari non capisca il senso però sente che è cantilena è solo il dubbio del dire non è magari troppo distante lui sta cioè in cima a una collina sta a gridà o sta cantilando piano è tipo e magari a 100 metri non mi senti così è una nota per l'autore non lo so qual è la risposta è per l'autore del testo cioè pensaci in base a qual è la risposta mi dici tu sei sbagliato o meno che non vuol dire come lo dici adesso tu ho segni sono cazzi tua non mi interessa saperlo soprattutto non mi interessa che dite io sono l'autore del testo per favore grazie la fiamma diventa enorme se la conficca nel fianco come un coltello se la conficca si conficca una fiamma nel fianco come se gira la torcia la fiamma s'arza la punta in cima come la fa ah si conficca la torcia ma come come un coltello che vuol dire le sue vesti prendono fuoco all'istante lo avvolgono ah infatti ho fatto la scena di questo è benzina adesso me do fuoco e lo avvolgono completamente si fondono in un volto sospeso a mezz'aria che ci guarda si lecca le labbra e sorride volto senza dettagli cazzo le mettono un po' di patos qui volevamo il volto mostruoso con dei dettagli con delle robe la paura rallenta il tempo sta avvenendo una roba miracolosa dacci le dettagli e tu dirai ero arrivato al limite delle 400 parole io ti rispondo e sti cazzi mi accorciavi prima mi facevi bella la scena del tizio che modello monaco buddista si dà fuoco o gente così che si dà fuoco è sempre bello quando si danno fuoco tanto penso che il darsi fuoco sia un'ottima soluzione al problema di avere una religione non vi sto invitando a darvi fuoco e niente si fondono un volto sperimentatore si decarabbe sorride degrutisco dai del cielo aiutateci ah no scusate quello è la razzaria dai del cielo aiutateci mamma mia che bel testo adesso lo analizziamo come avete visto è arrivato a metà mi sono completamente scazzato perché sto testo buon dio non è una roba che mi potete mandare cioè si va bene come livello per le live però c'è anche una questione del dire ai va ho basse aspettative ma borgo dio ecco la questione è sempre un po' quella quindi signori guardiamo i vostri commenti poi procedo con l'analisi qualcuno c'è in mente un titolo noir pubblicato da Acheron non sa che mi viene in mente niente in passato proprio il primissimo anno avevano fatto un fantasy investigativo tipo una roba pulp ma in un fantasy classico moderno che io non credo più sia in catalogo però e non so manco se potesse un titolo noir non l'ho letto boh dite voi Patrick mi dice che si pronuncia Azaria Azaria? Azaria? non Azaria Azaria? come Zaccaria? che bello è che voi giustamente mi scrivete gli accenti in modo che possa pronunciarli ma intanto non so pronunciarli lo stesso mi dovreste mandare un vocale e riuscirei a pronunciarlo sbagliato ciao Angry che mi piace sempre perché c'è Golem nel nome e quindi mi dà soddisfazione ho il fetiche di Golem ciao Max buonasera io ho comprato il corso il mese scorso come accedo al gruppo dei corsisti segreti semplice vai nel corso avanzato di scrittura a un certo punto ho trovato una lezione che dice proprio come cacchio si va nel gruppo segreto ci sono le istruzioni per andare con il regolamento ti leggi le istruzioni clicchi il link e poi devi essere approvata la tua iscrizione quindi ci sarà indicato tipo quale nome è usato per iscriverti e quale mail fine poi entro uno o due giorni ti abilitano quindi corso avanzato di scrittura trovi la lezione tra virgolette una lezione con le regole del gruppo c'è rappresentato una tizia da uno degli anime legati a la serie Fate quella Fate Steinite eccetera eccetera non mi ricordo qual è il titolo dell'anime a cui è legato la tizia vestita di rosa che fa così perché metto sempre le copertine comiche io quindi bene così signori sì oppure scrivi all'ufficio ma in realtà devi leggere il regolamento quindi prima di leggere il regolamento asseguire il link era liquido incendiario quindi si risolveva già dopo il senso più corto ho dei dubbi su tutti i dettagli che vedi sulla pelata e il resto vabbè c'è il sole luccica quindi la torcia la torcia può darsi fuoco la pelata luccica al sole vorrei ricontrollare come vedeva però i tizi che abbatte quelli con le fionde perché mi dava l'impressione che fossero visti piccoli e sfocati anche se poi vedeva la freccia quando li prendeva c'ho un po' di dubbi di quanto può vedere come li vede però finché non lo rileggo non me li posso risolvere quindi datemi un attimo che ci arrivo di nuovo e poi vi dico va bene non va bene va bene uguale va bene al cazzo eccetera eccetera il terzo uomo citato all'inizio che fine ha fatto era Nazaria il protagonista e Nathan giusto Nathan non mi ricordo che fine ha fatto ma lo scopriamo quando li leggiamo buono ok la pronuncia appare sia giusta come Zaccaria come Geremia ah scusa vuol dire ah come Zaccaria e come Geremia fantastico allora la pronuncia è giusto eh sexy golem eh sempre poi c'è un fetish per il nome di cacca che adoro perché usa l'argilla quando posa la cacca e la cacca è sicuramente più vitale molto meglio anche perché a giudicare dalla media degli umani sicuramente Dio ha soffiato il suo il suo fiato vitale in una grande cumoda e merda sicuramente non in nobile argilla e quindi bene così ciao Laura ecco bravi poi ve lo dicevo ma questa è la faccia a distanza in metri anche perché non è una roba che dice ambientata giù al di là che la distanza in metri non è mai elegante almeno che veramente non sei piano a mira col fucile e stai a valutare la distanza ma porca troia 30 metri non stai a compensare un cazzo sei a tiro dritto quindi se te ci hai messo il tuo bichino regolato che è insomma a 100-200 metri il cavolo che è in base a quanto è teso quel proiettile a 30 metri frega un cazzo mentre invece sai fai la scena col cecchino c'ha il mirino telescopico deve o regolarlo oppure compensare lui in qualche modo deve essere in grado di stimare la distanza in modo preciso perché sta tirando che cacchio ne so a 700 metri e la caduta del proiettile varia in modo rilevante che sono 20 metri più 20 metri in meno con quel calibro cambia il discorso è lì che si ragioni in metri si pensi in metri ha senso ma se addirittura me l'ambiente è un'ambientazione in cui dare l'impressione del sistema internazionale quindi roba da dopo la rivoluzione francese insomma cioè la rivoluzione francese dopo è un'arma molto moderna non è che da proprio l'idea giusta io eviterei le misure in generale e quando parlano usare misure che diano il senso del luogo vuoi fare una roba alla vecchio testamento che misure usavano a Babilonia o gli egiziani che misure usavano gli israeliti le altre robe lì delle varie tribù di quell'area lì all'epoca vuoi fare un'ambientazione completamente inventata non vuoi neanche questi riferimenti cosa usavano inventati qualcosa insomma penso che nessuno si offende se fa un mondo inventato che ricorda vagamente gli scontri tra varie tribù e vari popolini nella Palestina dell'età del bronzo ma poi ci metti magari delle misure che sono quelle che ricordano quelle della Roma repubblicano degli antichi greci penso che non si offende nessuno suonano comunque vecchie o poi dipende da gusti magari si offendono non lo so non sono non conosco il mondo dei romanzi fantasy nell'età del bronzo o il fetish per cui mi piacerebbe un sacco vederne ma non lo conosco cioè non so io nel dubbio direi rimani in quell'ambito lì più a qualcosa di egiziano o di babilonese piatti du sberle che ti fanno sempre bene metodo Montessori non sbaglia mai pam che poi devi farlo ridoppiato il metodo Montessori perché così si impara ma poi così si impara di più chiaro? bene signore perfetto Max Camilla che mi dice comunque abbiamo alla stessa distanza delle figure è un tizio di cui si vede la profezione di tizio sì lo stavo dicendo prima però devo tornare a guardare per capire se correggerai le figure dando più dettagli sui tizi se è possibile darlo se non ha senso darlo nel caso vada bene la cosa cioè è giusto che vede i dettagli del tizio e ha senso che non va di troppo ai dettagli banali dei frombolieri questi qua con le fionde quel cacchio che è allora ragione del dire sì però c'è un problema che uno poi gli viene il dubbio dopo riragioniamolo in modo che non venga questo dubbio anche se magari non è in sé sbagliato e voi mi direte e sti cazzi? vabbè no non è che possiamo fregarci di ste robe c'è un problema perché poi un lettore potrebbe avere questo dubbio o notare la cosa soprattutto se punti a un pubblico non formato da cerebro loser ma formato da persone che cerca che a cui stai puntando proprio con l'idea che il tuo libro il tuo libro è particolarmente ben scritto molto immersivo che cacchio che ti pare se ti vai a scegliere il pubblico difficile poi devi anche giocare su un campo che alcune volte è abbastanza metanarrativo cioè tu stai scrivendo giusto ma potrebbe creare un dubbio e allora tu lavori anche sul dubbio è un po' come quando dici nella pagina di vendita non te devo scrivere che contiene il mio prodotto a te non te ne frega un cazzo che contiene il mio prodotto in realtà interessa una pagina di vendita che risponda a tutti i tuoi dubbi che ti bloccherebbero dal comprare chiaro? se poi secondariamente per farlo devo anche spiegarti che è artistica del prodotto ben venga bene 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 Federico dice queste live trattano solo di fantasy no trattano di scrittura e la scrittura è priva di genere in questo caso per esempio non c'è fantasy dove sarebbe il fantasy? la scena finale con la testa ok? taglia quella adesso romanzo storico nell'età del bronzo fatto vedi che non esiste il genere potete mandare quello che volete ah grazie fantastico Marcello e non ho visto quella serie esatto Fetkeled eccetera c'era quello che non l'ho vista però quella serie quindi ho preso solo quell'immagine perché faceva ridere però non non l'ho vista non penso neanche che possa essere il mio genere non lo so ho troppe robe da fare ormai non guardo quasi nulla se devo scegliere guardo cose drammatiche e tutto oh vi riconsiglio ho visto finalmente a distanza di tre anni Black Clansman quello col poliziotto di colore che si infiltra nel Ku Klux Klan ovviamente con l'aiuto di un altro poliziotto bianco fa ridere da morire è bellissimo l'ho adorato e per quanto abbia al finale poeticizzato contro Trump è fatto in modo molto delicato molto fine e quindi non pesa non è come dire quando fai i suoi inserti in modo pesante e molto anche viscido a livello politico zero calcare nelle sue cose no no lì proprio in modo delicato e in un modo che va benissimo cioè proprio l'onestà intellettuale del voler rappresentare una cosa ma non in un modo manipolatorio o comunque non vabbè tutto è manipolazione non in un modo offensivamente manipolatorio non in un modo insomma da satira fascista che è un problema di tanta gente che fa umorismo e magari si chiede di sinistra ma ha un approccio fascista quando fa satira ok quindi guardate i Blacks Clansmen l'ho adorato quel film l'ho adorato quanto sembrano scemi quelli del Ku Klux Klan perché sono anche scemi in modo realistico quindi l'ho adorato perché a me fanno cagare ovviamente a parte le battute sono mostre ultra white mi fanno veramente cagare il cazzo quindi bene così aspetta che diceva Daniele più che altro se tiro con l'arco ad un tizio che mi attacca con una fionda mi aspetto che la freccia gli sbuchirà la schiena perché devo sbuccargli la schiena necessariamente scusa perché se tira una freccia perché devo sbuccargli la schiena in automatico ciò dovrebbe evitare due file di costro e non prendere le vertebre avere così tanta potenza ad attraversare tutto uscendo anche fuori può essere ma non è automatico e comunque lui poi lo guarda cadere se la vede che gli spunta dal petto almeno che non faccia una piruetta hollywoodiana non vede il retro la fitta dove la sposterei prima che il tizio si solleve sui gomiti dopo guardiamo forse sono fromboglieri quatti che uno fa vedere che riusciranno a colpire il bersaglio di spalle vabbè giusto bello dopo riguardiamo i fromboglieri quando ho capito per che cazzo vuoi vedere la freccia che esce fuori ha una domanda di scrittura sì che non è meglio scrivere 30 metri in lettere anziché con i caratteri e i numeri si è meglio in lettere puoi tenere i numeri quando ha raffigurazione presemente i numeri cioè vuoi mettere una via il numero 26 di via del panettiere magari metti 26 quando metti il numero meglio mettere il numero invece scritto così tipo 30 metri ponciato 30 metri invece dici via del cazzo numero 2 puoi mettere numero 2 dipende sempre per esempio in venezia metal alcuni personaggi hanno un nome con un po' di indicazione tipo uno si chiama bono spike bon secondo e c'è il numero romano 2 ok dipende sempre da caso a caso in generale in questo caso qui misure di questo tipo fallo così 30 metri di scritto 30 che lettere ok Caterina se queste cose di notazione di scrittura beh che sono risolte semplicemente guardando i romanzi di Vaporteppa però capisco che magari uno non ci bada quando li vede magari potrei fare una lezione in aggiuntiva che so per lo starter kit riportandovi sia le opzioni varie che le tipiche posizioni da manuale di redazione che in effetti capisco che ci sono alcune cosine proprio terra terra così che uno finché non si abitua può avere dei dubbi e magari alcune volte sono giuste più risposte quindi uno deve scegliere però magari sapere che non è una soltanto giusta potrebbe essere una buona cosa ci penserò tanto poi a gennaio febbraio devo completare questi starter kit così che posso cominciare a venderveli per chi non c'ha voglia di comprare subito al corso avanzato è semplicemente un'infarinatura aggiuntiva rispetto al base va bene sul testo c'è scritto che sbucava dal petto sì se era colpito nel petto sbuca dal petto c'è una freccia nel petto il frustino sbuca da sotto la scella non indica movimento indica dove cazzo è secondo me per la questione dettagli diversi potrebbe bastare aggiungere uno sui frombolieri ci sta che non presto troppo attenzione vista la fetta basta che non siano così sfumati ok che dettaglio potremmo mettere perché l'altro problema che dà è capire se sono così sfumati dà un po' l'impressione che sono magari in controluce col sole dietro e lui vede sagomette nere ma a questo punto non vedrebbe la freccia che spunta dal petto quando casca giù probabilmente che sarebbe tutto acceccato dalla luce quindi non credo che siano così non è indicato dove è il sole quindi non credo siano così che dettaglio puoi mettere sui frociolieri non lo so comunque sì l'idea è buona ma non mi viene in mente come farlo quindi giusto così Camilla Patrick dice potessi fare i video dei numeri se dopo i punto escamativo punto romanda vala maiusco essessi quando bla 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 in realtà è tutto già gestito nella lezione dei dialoghi sta roba quella della punteggiatura è tutto sì qualcosa sul vestito potrebbe andare bene però devo capire cosa perché potresti vedere le tuniche scure anche se sono a grandi distanze piccoli ci serve un dettaglio in più se fosse una roba medievale dove c'erano la cotta d'arme con i simboli cosa che non è questo testo io avrei fatto vedere quella quindi hai una scena in cui hai il signore di Rocca Frocillipo che si è portato dei mercenari schiavoni o dei mercenari insomma dal di là dell'Italia e questi potrebbero avere dei simboli diversi sulle cotte d'armi e quindi lui può notare quello può notare degli arcieri o dei fromboli a cazzo che te pare quello che è idoneo al testo con il pisello bicefalo degli dei mercenari della costa dei cazzoni ok una roba così che tempi di gestazione è meglio con i lead non te lo so dire anche perché ormai è diventato irrilevante l'acquisizione lead e faccio tutto in organico prima avevo i tempi medi che non mi ricordo di quali erano ne ho parlato in strategia di 8,6k che è un corso che si compra è uno dei corsi commesso nei vari pacchetti di mentalità e marketing non mi ricordo assolutamente forse l'ultima volta che ho usato pesantemente i lead comprati era gente che aveva mediamente una ventina di giorni prima di comprare a 1000 euro una cosa così io convertivo un sacco gente che aveva tra i 10 e i 30 giorni e troppo all'inizio 2020 il 2021 è un altro mondo e cambiavo tutto infatti sono andato pesantemente di organico non c'ho voglia di sperimentare va bene vediamo di nuovo il testo tanti vostri commenti l'ho già visti scatto in avanti arrivo in cima alla duna molto minimale pochi dettagli capiamo che c'è una duna che dà l'impressione di deserto le colline rocciose sono a 30 metri da noi 30 metri fa merda fa schifo arcazza eccetera eccetera la idea che 30 metri è veramente poco le colline rocciose sono a 30 metri da noi che vuol dire che a 30 metri comincia il lento declivio che poi magari a distanza degli altri 50 metri in dritto più che cacchio ne so 80 in verticale era cima della collina e quindi quanto è distante cioè non vuol dire un cazzo 30 metri da noi le colline rocciose cazzo vuol dire Azari e Anita mi raggiungono dico non sappiamo niente perché hai cominciato con una scena d'azione in cui due personaggi in cui non ci importa niente rischiano la vita e quindi non ce ne frega un cazzo perché come ampiamente spiegato nelle lezioni sull'empatia dobbiamo prima costruire l'empatia perché altrimenti non ci importa niente dei personaggi e se non ci importa niente di personaggi non ci importa che siano in pericolo allora porca troia perché ce li metti in pericolo all'inizio e sì è proprio spiegato così già nel corso e allora perché lo stai facendo indico l'altipiano ma non è una collina ma adesso è un altopiano che poi che vuol dire indico l'altopiano un altopiano può essere che sia una pianura perfettamente dritta ma sei a a che quota serve per essere un altopiano cioè non vuol dire niente che è sta roba che poi sta indicando le colline rocciose in realtà so colline in alto che è sta roba non so perché cambi termini due secondi e tu dici per non ripetere colline ma se hai problemi di ripetizione vuol dire che hai sbagliato altro e poi perché ti manca la punteggiatura sei di un qualche gruppo etnico che non può stare la punteggiatura o è un problema genetico cioè cosa ti impedisce fisicamente di mettere la punteggiatura siamo salvi lì ma di aniti non ci troveranno mai che sto cazzo corro giù per il pendio in ciampo e cado in avanti nella sabbia ecco anche qui in avanti non serve sta a correre giù per un po' di in ciampo ma secondo te cade all'indietro è inutile precisazione in ciampo e cado nella sabbia i granelli arroventati mi grattano la faccia e sfregano sulla barba magari mettici anche un mi ok e puoi fare con la virgola se vai in ciampo e cado nella sabbia i granelli arroventati mi grattano la faccia e sfregano nella sabbia e sfregano sulla barba no meglio col punto mi sollevo sui gomiti tossisco e sputo vabbè una scarica d'odore arriva dal piede destro anche qui si solleva sui gomiti quindi non ha usato il piede e gli fa male il piede ora o si è fatto male in un modo tale che però non sente il dolore finché non cerca di alzarsi e allora mi va bene che metti la scarica e il dolore sul piede destro quando cerca di alzarsi ma se questo non ha manco cercato se lo ha messo sui gomiti e l'impatto è stato così forte che anche soltanto mettendosi sui gomiti gli fa male la cavigna ma allora il dolore faglielo subito si è sfondato il piede mentre cadeva non è che non gli fa male fino a quando si solleva tossisce e sputa o se succede così controllate un attimino i cavetti di rame e controllate i problemi elettrici che ha perché c'è il segnale che gli arriva veramente lento dal piede al cervello sistemate qualcosina dagli che distrae il lettore in questo modo mi giro sul fianco il piede è coperto di sangue un brutto taglio aperto tra il secondo e il quarto dito e il sandale è rotto e direi che lo sente sta roba porca troia oh buon per lui se non sente quando gli sbregano il piede in questo modo perché vuol dire che poi nella scena in un'altra scena quando si prenderà una spadata che gli apre il petto lui per 2-3 secondi anche 4 il tempo di sollevarsi tossire gli ha fatto cioè vari secondi lui non sente il dolore cioè vuol dire che nel frattempo il tizio che gli ha dato una spadata gli ha sbregato il petto e lui risponde con la sua lancia lo ammazza perché non sente il dolore cioè carino un bel vantaggio certo che ha dei problemini perché vive come un lebroso cioè se lui va contro un muretto frastagliato con le rocce frastagliate si fa un taglio non è che appena inizia a sentire leggerissimamente il taglio subito scatta per il dolore lui si sbraga tutta la gamba come un lebroso ma sei sicuro che il tuo personaggio sta messo così? dai una punta pietrosa rossa di sangue spunta dalla sabbia merda per il merda io te lo terrei buono se fosse un'ambientazione inventata ma ragiona sempre che esclamazione userebbero nella tua ambientazione che so che ricorda il mondo dell'età del brunzo del vecchio testamento merda e cazzo sono un italiano contemporaneo hai un'alternativa che suoni come dell'epoca? sì o no? se non ce l'hai usa questi però non è una cosa che rinforza a senso storico perché noi la percepiamo come moderna se poi anche storica buono ma rimane che non verrà percepita come storica in sé capito? azzaria mi solleva di peso e mi carica sulle sue spalle mi carica sulle spalle sue spalle di chi? perché abbiamo già detto arranchiamo mi solleva sulle sue spalle vuol dire che ha messo di traverso e non che l'ha sollevato sotto il braccio quindi arranchiamo un cazzo azzaria che arranca lui sta come una sciarpa si è messa al collo come una sciarpetta proprio fino ad un anfratti in penomba bella sta di un anfratti in penomba la piastra va su una duna e davanti alle colline poi i progetti sono gli anfratti in penomba che è sta roba? è un anfratto di cosa? che sta di? è una duna di sabbia? c'ha gli anfratti adesso? l'anfratto mi dà l'impressione che sia una roba scavata dentro tipo una uno scavo una roccia mi dà l'impressione di una roba da duna di sabbia che è sta roba? mi siedo contro la parete di roccia ah no sono arrivato alla parete di roccia ma quindi c'è proprio duna di sabbia e poi limite tipo videogioco parte subito parete di roccia mi va bene non è un problema quindi non ero delle colline ma tipo una parete di roccia che poi diventa un altapiano di roccia questo è il limite del deserto beh non si capiva un cazzo perché l'hai scritto sbagliato di grigno i denti per il dolore vabbè molto banale a Zaria si strappa un pezzo della tunica solito cliché della gente che si strappa i pezzi dei vestiti tanto con una facilità estrema provateci cioè non è tutto quanto come negli entai brutti dove una tizia gli afferrano il davanti della tunica alla scolarità tirano e si strappa come carta igienica non funziona così ma svegliatevi eh guardare meno porno e ragionare di più quindi invece si strappa se veramente vuole rovinarsi il vestito senza motivo buon dio perché cazzo lo stai facendo tra l'altro vi stanno pure inseguendo perché cazzo lo fai adesso fagli prendere un coltello e gli fai tagliare via una striscia anche se strappa che cazzo di vestiti c'ha cioè ti immagini che giri con dei vestiti che appena fai una minima torsione e tirare si strappano che vi tanno qualche giorno prima che devi buttare perché indossi letteralmente un rato da carta igienica non è il momento di riposare fratello solito prendo le virgole faccio una smorfia stavo per dirti la stessa cosa belle battute mamma mia mamma mia che dialoghi afferro la sua mano in mia e alzo afferro la sua mano in mia e alzo ma che è sta roba mica gli ha porso la mano gli sta a fasciar piede questo gli fascia il piede che si afferra la mano che gli sta facciando gli sta a fasciando il piede e si alza ma ti sembra sensato? vabbè proprio sbagliata costruzione sorride e mi porge il suo arco va bene? sì vabbè possiamo ottenere il suo audio fa cagare sta roba in realtà dovresti fare prima vedere che lui c'ha l'arco e poi fa sorride e mi porge l'arco sottointeso il suo te invece non hai fatto capire un cazzo di chi c'ha cosa come sta a me perché la partenza è sbagliata perché tu non puoi iniziare con questa roba tu devi iniziare con il cazzo di corretto inizio che non prevede una scena d'azione così in cui rischiamo di morire prevede come logico la corretta scena di status quo e preparatoria che ti fa in modo che tu quando poi devi andare veloce così avrai già i dettagli da dare perché non devi darli adesso li hai già preparati non è per scherzo che si fanno le cose giuste perché altrimenti non funziona come stai vedendo adesso come state vedendo tutti adesso e sia di monito per voi e per le generazioni successive intanto poi come assolutamente non ci avete capito un cazzo e quindi inutile però bene lo stesso bravo Sakai ricacciamo i maglianiti nel deserto incocco una freccia e zoppico fuori tacci sua ma anche sto zoppico non sentiamo il dolore del piede è una merda manca concretezza manca emotività manca la roba manca il testo fondamentalmente uno schianto risuona vicino alla testa che vuol dire uno schianto risuona vicino alla testa che cazzo vuol dire vuol dire che un proiettile di fionda si è schiantato nella parete lo ciuso alle sue spalle fa schifo ma fare che un proiettile gli si bila accanto all'orecchio e tu dirai è banale certo sta una merda invece questo è banale è pure una merda e non si capisce ma fare che il proiettile di fionda gli smirbazza sul pavimento e gli passa un pelo dal ginocchio perché si visivamente lo può vedere perché non è velocissimo considerate che a una certa distanza vedete anche le frecce che tante volte viaggiano a 40 metri al secondo a malapena cioè le vedete a una certa distanza se sono distanti e il proiettile nella fase finale della caduta può anche vederlo lo vede all'ultimo istintivamente il suo sguardo becca il rimbalzo che fa la scintilla magari la scintilla no anche perché fa c'è un problema il suo proiettile a fiondo in piombo o cazzo che sarà però vede toc il rimbalzo il rimbalzo magari gli sfiora gli sfiora la tibia gli sfiora il ginocchio gli sfiora la gamba gli sfiora questo grandissimo cioè dai dettagli forza ma che ci vuole scrivere giusto sapere che cazzo si vuole scrivere giusto avete ragione effetti al riparo mi getto a destra a destra dietro una grossa roccia ma perché a destra perché devi precisare mi getto dietro una grossa roccia e sbircio e sbircio poi perché sbircio così cioè così veloce mi getto e sbircio tutto fluido così ma non è fluido non è fluido porca troia falo gettare a nascondersi dietro la roccia ok poi gli fai tirare via una freccia dalla faretta che non sappiamo se ha non sappiamo dove non si capisce niente anche perché magari quando si lancia e rotola e finisce dietro la roccia magari lo fai rotolare per fargli cascare fuori le frecce che ne so e così si ragiona per trovare i dettagli trovali inventa qualcosa di qualcosa di sinistra d'alema quattro figure in piedi e poi lo fai sbirciare ovviamente fai cocafri e ci sbircia è fluido 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 ma non fluido in modo sbagliato che si getta e poi subito sbircia il movimento così e cacchio e stai in un videogioco componi la scena dai giusti tempi quattro figure in piedi sulla cima della duna le loro sagume sfarfallano sulla cima della duna ok non erano tanto distanti allora ma il sole come c'è l'anno due di loro rotterano delle fionde chi è che li vede bene tendo l'arco trattengo il respiro scocco un nemico cade all'indietro la feccia gli spunta dal petto cade all'indietro la feccia gli spunta dal petto sono in piedi sulla cima della duna gli hanno appena tirato un proiettile ma chi cazzo se li immagina di spalle scusate che cazzo stiamo dicendo sta dritti davanti a lui e lui gli tira una freccia lo colpisce e la freccia gli spunta dal petto cioè se ti colpiscono del petto buon dio come cazzo fa a non spuntare dal petto oh si se poi avete un italiano che non è quello standard ma per voi spunta diventa soltanto la parte dietro avete un problema che fondamentalmente nessuno spunta un freccio da nessuna parte un altro lascia andare la fionda mi butto dietro la roccia la pietra ci si schianta sopra si questo va bene perché sento il pom poi perché si butta un asolo che ha fatto capolino e si è alzato un attimo con l'arco di fuori vediamo che avete di bello qui mi getto dietro una grossa roccia qui sarebbe perfetto inserire la fitta al piede prima che sbirci si buono anche perché deve fare probabilmente peso sul piede la freccia è piantata conficcata nel petto mi piace di più è un altro tono però piantata e conficcata è più neutro spunta e tira già più quel grezzo che sta cercando nella scena veloce spunta conficcata piantata sono più sillabe spunta veloce ok ad esempio forse è stato sbuca già posso capire che sbuca dall'impressione della parte che esce ok come dire la punta della freccia fa capolino o la punta della freccia sbuca ma la freccia spunta va benissimo così è semplicemente dire è piantata ma lo stai dicendo in un modo più dinamico meno sillabe più veloce non è tutta la stessa roba cioè i sinonimi non sono la stessa cosa se fosse la stessa cosa non esisterebbe ci sarebbe una parola sola chiaro? incocco mi rialzo tendo scocco vabbè avevo già detto che stiamo andando troppo veloci su alcune cose non mi fa impazzire è giusta questa ovviamente mi abbatto un altro gli ultimi io si acquattano dietro la duna si acquattano dietro oppure fa cagare sta roba cioè non è un muretto la duna si acquattano si buttano a terra oppure corrono all'indietro fino a quando un po' alla volta scendo di dislivello fino a scompa dietro la duna e quanti metri è che roba cioè fa cagare la descrizione così se si acquattano dietro si è acquattano dietro il muretto ma la duna non è un muretto vivamente non è la stessa roba sputo per terra è un bit abbastanza pigro del cazzo Nita Nurla pure fa cagare ma perché scrivi Nita Nurla cioè l'unico motivo perché ho ne messo i due punti è perché sta a sbagliare la grammatica qui sarebbe stato Nita Nurla a due punti fatevi avanti e combattete voi avete ma quei due punti fa schifo allora non metto la punteggiatura come sono furbo no è che è sbagliato fare Nita Nurla così non è più semplice fare Nita batte la spada sullo scudo fatevi avanti e combattete codardi combattete virgola codardi punto esclamativo sta a battere la spada con lo scudo ma secondo te sussurra to 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 fatevi avanti e combattete codardi o sarà to 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 fatevi avanti e combattete codardi dai che non devi dirlo che urra ma non lo vedi che è sottinteso forza un uomo compare dalla cima della collina già detto prima sto qua sta uscito dall'uovo di Pasqua coperto all'undra conica rossa va bene ah ma questo è dalla collina gli altri sono dalla duna giusto ma c'è un problema quegli altri stavano alla duna che non è una collina è una duna altrimenti avessi chiamato duna duna e collina non la chiamavi collina quella si chiama duna ok ma tu ci hai detto che le colline rocciose intendevi l'altipiano roccioso che c'ha la parete verticale qua giusto quindi sto tizio in realtà sbuca qui dalla parete non gli dalla duna giusto ok ma in teoria il nostro tizio stava ancora a guardare verso quelli che aumentato possono sbucare quindi perché si caga il tizio della collina che sta le sue spalle ricordate che lui si è anche messo a un certo punto in pratica sono scesi dalla duna lui si è fatto male rotolando e se vi ricordate si sono piantati come due grandissimi stronzi mi siedo contro la parete di roccia ok vi ricordate le colline rocciose sono a 30 metri intendeva probabilmente che cominciava la parete di roccia e l'altopiano perché poi parla di un altipiano poi non so si c'è altipiano o altopiano non lo so non mi interessa ok quindi c'è un problema sto cazzo di uomo cato unica perché lo vede anche perché non è che grida e lui lo vede perché grida compare e basta non è buono l'impressione è che guarda verso la duna non va bene quindi ok allora il problema del lui rispetto agli altri non c'è più perché sono in due posti diversi va bene che gli altri li veda così distanti e così piccoli probabilmente anche si va bene va bene come dettagli va bene probabilmente anche che veda lui in modo nitido c'è proprio in verticale sopra o con un po' di dislivello insomma lo vede bene non penso sia un problema dove è piazzato il sole tanto o è nascosto dalla parete di roccia e non lo vede o è di là e non ci frega e quindi a posto direi che allora vanno bene i dettagli coperto l'unica turoso il cagno pelato luccica sotto il sole ecco questa cosa possiamo basso verso l'alto io non sottolineerei il cranio pelato anche se magari c'è l'avuto di sudore magari luccica davvero ma mi dà un'impressione di visuale dall'alto in basso o dritta non mi dà un'impressione dal basso in alto e dall'alto in cima all'altipiano che magari sono solo dieci metri di roccia non lo so però nella mano destra reggione l'alto c'è un'anfora con lo set va benissimo c'è là in cima lo vede unica cosa non ci aspettavo che lo vedesse quindi piuttosto fallo gridare come un pazzo scatenato ok lui si gira e vede sto pazzo fammelo così azaria ringhia e quello chi è se ti vuoi punteggiature sti cazzi ecco buono questo pure azaria ringhia però vedi che fa cagare tu continua a farmi testi come se avessi due punti ma poi togli la punteggiatura ma ti sembra che sono fatti così i libri di Vaporteppa no i dialog tag si mettono dopo la battuta i bit li puoi mettero prima o dopo in base a quanto ci vuole per capire chi parla secondo le regole espressamente spiegate con additura il conteggio delle parole nella lezione dei dialoghi che hanno tutti visto che se entri in main list ce l'è anche se soltanto il corso base quindi non c'è scusa per non applicarla è lì dovete semplicemente applicarla lo scopo di queste analisi è vedere quanto avete applicato quelle cose quindi se non le applicate vi viene detto non le applicate non c'è che non le applicate e non vi viene detto che non le applicate è difficile so che senso aveva cioè a sto punto diciamo oggi l'analisi è basata sui criteri di come si fa l'articolo di un blog che cazzo vuol dire è basato sui criteri del corso c'è avete quello base c'è avete gli esempi dei romanzi e c'è avete anche la lezione omaggio iscrivendo in mail list che poi a gennaio ve la levo vi metto un altro omaggio diverso non vi metto un cazzo vi metto due sberle non lo so vi metto un omaggio diverso sì quindi chi ancora non ce l'ha se api chi c'ha un minimo di cervello si compie il corso intero che ce l'ho offerta è Black Friday e chi c'ha le zampine corte si faccia abbastare il corso base ai romanzi tanto se volete imparare si impara un sacco anche solo con quelli vabbè poi c'è tutta la scenetta del tizio avesse da fuoco questi cazzi c'ho dei dubbi se sto conficca nel fianco come un coltello cioè la torcia proprio affonda cioè entra nella sua carne perché la figura che sto usando indica questo non penso che vuoi intendere sta roba come un coltello è un problema visivamente niente abbiamo visto avete dei dubbi avete domande possiamo proseguire sono tutti coglioni in cocco mi rialzo qui ci starebbe una breve indicazione visiva prima di tendo e scocco sì sì faccio vedere il tizio il secondo fromboliere sta ruoteando la fionda in aria altri dettagli faccio vedere qualcosa cocco mi rialzo inquadra il nemico tendo e scocco figo non è sbagliato quella roba lì di prima ma già non è ricco di dettagli li metterei qui se invece facevi una scena già costruita dove l'obiettivo era chiaro tipo sappiamo che lui vuole prendere la mira verso un enorme orco di 4 metri che si sta smanettando l'uccello e l'uccello gli diventa duro e c'è il suo amico che ha la gamba rotta e palesemente l'enorme orco di 4 metri userà il suo enorme pene per schiantarla al suolo quindi sappiamo che palesemente è quello l'obiettivo e quindi in questo caso va bene in cocco mi rialzo tendo e scocco o ancora meglio mi rialzo in cocco tendo e scocco perché cazzo in cocco e poi ti deve anche rialzare scusa mi rialzo in cocco tendo e scocco c'è sempre il problema di in cocco e scocco vicini però buon dio era per dirvi che puoi anche costruire in sto modo i fromboglieri dovrebbero tempestarli di pietre così punto di vista nascosto dietro a roccia avrebbe di nuovo il nuovo tizio davanti brava va bene quello sì oppure se non vogliamo cambiare la scena facciamo che grida come un pazzo tanto devi già gridare lo facciamo che grida come un pazzo e lo mostriamo già che c'ha l'anfora sopra la testa e si sta rovesciando la roba tanto tra quando comincia il grido e quando poi si gira non è un attimo ok per non cambiare la scena sennò va bene anche come dici tu va tutto bene il gerundio cantinando va bene andrebbe cambiato non mi sembrava che desse problemi fammi vedere perché i problemi sono quelli di sovrapposizione solleva la torcia e inizia a dondolare avanti e indietro cantinando no direi che sovrapposto dondola e cantinando assieme quindi inizia a dondolare avanti e indietro cantinando io farei e si dondola avanti e indietro cantinando e inizia a dondolare perché si dondola va bene uguale e che almeno non stanno simpaticissimi e così così no direi che non è un problema direi che la sovrapposizione temporale è precisa quindi è un gerundio corretto va bene siete a posto siete contenti video piace berle no a posto possiamo passare al secondo testo sperando sia meglio mi rispondo da solo la risposta è sì fatemi bere ancora un po' di tisana è diventata fredda ma essendo io un grandissimo fan di Sauron non tanto per meriti suoi ma perché come sapete lavorava con una una gran bella persona che mi sembra si chiamasse donald trump no morgot giusto non riesco mai a distinguere i due perché uno è un pochino più bello per via del ciufo però è anche molto più cattivo dell'altro per cui qualche volta ecco io quindi ho giustamente il mio termos dell'anno espresso con il logo della Ferragni che sarebbe Sauron perché ha l'occhio senza palpebra lo sappiamo tutti che è Sauron dai l'ho già spiegato altre volte poi c'è gente che fa finta che la Ferragni non sia Sauron ma dai cazzo vive vive in cima alla torre no ha una torre cioè sta sul coso a a siti cazzo e c'ha l'occhio senza palpe beh dai è fin troppo evidente a certo punto Patrick dice che non abbiamo acceso il falò non abbiamo salvato hai ragione visto che non era male questo testo procediamo per sicurezza eccoci qua salvato oggi effettuato hai ragione meglio andare sicuri buonasera salvatore non ricordo di averti mai visto ma forse ricordo male comunque buonasera adesso cominciamo il secondo brano se ti sei perso il primo andiamo andiamo brano 2 mi schiaccio contro la parete di roccia schiaccio roccia va bene leggo tutto e poi commento a meno che non venga preso dal malessere di vivere e mi viene da commentare mentre leggo come nel caso prima il vento freddo sposta la pelliccia del cappuccio i peli mi si infilano nella bocca mi metto a sputare ah un pelo de cazzo allora merda il rampino non funzionerà mai dovrò fare la vecchia maniera tiro fuori i picconi dalla cintura e li conficco nella parete tiro fuori va bene che cazzo mi aggrappo con le gambe la sacca mi rimbalza sulla schiena resisti ti prego mi allunghi artiglio la roccia più in alto altri quattro balze sono in cima che cazzo sto leggendo i fiocchi di neve mi finiscono in faccia sono sospesi nell'aria tipica arte dei venerabili identica a quella degli alti templi montani ma che cazzo stai a di sono fiocchi di neve mi sa che è un fiocchi di neve anche chi ha mandato il test a sto punto mi faccio strada tra i fiocchi ghiacciati due dita di neve ricoprono l'altare che cazzo stai a dire che cazzo parli metto il braccio sulla superficie dell'altare che non è mai presentato così così altare ogni volta che vi arrampicate su una roccia in inverno con la neve c'è un tempio evidentemente così nel no perché dà per scontato che esista come un cespuglio ai bordi di una radura ma che è sta merda è imbarazzante questa roba metto il braccio sulla superficie la spazzo via rimane in aria che vuol dire rimane in aria cioè spazza la neve e quando lui smette di spingere rimane ferma dov'era in quel modo lì intendi ok se è così va bene c'è un problema 90% di tu non capirà un cazzo quindi anche prima era non era metaforico i fiocchi di neve sospesi nell'aria sono veramente immobili e quando ci sbatti contro che succede sono inammovibili o si spostano perché veramente bastava o bastava essere Forrest Gump per mostrare in modo chiaro l'evento sovrannaturale dei fiocchi nevi immobili come se fosse tutto congelato in un dipinto e lui si muove ok e spinge questi fiocchi che non si scongelano al calore sono immobili nel tempo e nello spazio e lui quindi li spinge come se fosse una tenda di perline e quindi mentre li spinge gli si ammassano contro e quindi lui magari fa due metri di passeggiata nei fiocchi di neve se becca una tenda di fiocchi di neve in faccia e se devi levare oh ma è così che si fa in dettagli se intendevi questo altrimenti sta mal di cazzate se stai dicendo cazzate è un altro discorso se intendevi quello è esattamente così che si fa e in mente di questo mostravi l'altare e buon Dio risparmaci nel maiuscolo le fantasy i venerabili l'altare e quando va a pisciare esce il cazzo qua c'è in maiuscola terribile e lui e lui le massabachtani e ora la parte difficile appoggio la sacca sull'altare e tiro fuori il libro divino e la fiaschia il libro divino le maiuscole fantasy quanto le amo che bello aspettate che mi abbassi i pantaloni faccio del quanto amo le maiuscole no ve lo sognate quando avremo l'holly fans faremo queste cose e la fiaschetta di nettare sì ti faccio vedere le due fiaschette che inviano e ti sparo con il nettare tutto in faccia madonna perché scrivi così perché io mi sono lamentato del testo prima perché non sapevo che mi aspettava questo srotolo srotolo il libro va bene in effetti il libro non vuol dire volume ma c'è un problema cioè capisco che tu non attendi libro come unità di significato non lo so ma se dici libro in un testo moderno le persone pensano al volumen non pensano che la tua cosa organizzata in libri magari è su un papiro su una pergamena sul cazzo che ti pare comunque va bene srotolo il libro dai il segno del dio serpente ma è bello che sia un panto un animale così poi magari vediamo anche il segno del dio porco troneggio al centro nero sul giallasto della pergamena ok una pergamena buona passo il dito sull'inchiostro è un cerchio perfetto ok ottimo nel freddo nell'umidità lo hanno scrostato scrostato aspettavo tipo si impiastrasse per l'umido e colasse facesse schifo non tanto che si essiccasse e cadesse scrostandosi se mi parli di umidità però va bene se mi dice che funziona così con le pergamene concordo con te non lo so non sono un tecnico delle pergamene almeno non farò la fine del principiante esploso insieme a mezza montagna quindi sta per fare qualcosa di pericoloso che potrebbe fare boom fin qui va bene comunica che sta per fare qualcosa di pericoloso con questo pergamene il problema è prima che non si capiva una ceppa sta a ponnettare sta a fiaschetta con il nettare ok va bene sta a ponnettare si capisce e ne verso una goccia al centro del sigillo qual è il sigillo scusa era il segno del dio serpente o c'è anche un sigillo che è un sigillo o un sigillo o un segno o un segno anche perché uno può pensare a sigillo nel senso qualcosa che sigilla come un sigillo di ceralacca per tenere chiuso qualcosa perché prima l'ha chiamato segno ha chiamato segno è un problema non ha stessa roba se fosse il segno del dio serpente che sigilla il demone culonio va bene ci fai questa costruzione che ci porta poi a pensare segno e sigillo come sinonimo in questo caso ma il problema è se ci vuoi pensare che intende sigillo come una cosa fisica tipo di ceralacca ok dovete ragionare a cosa scrivete e a come può essere percepito la scrittura è quello una fiammella blu si leva dalla pergamena buono svuoto la fiaschetta il segno si illumina di giallo ok va bene unico dubbio svuoto la fiaschetta sul segno sbarra sigillo o se la svuoto la fiaschetta ti ammettere se aveva goccia immagino che la svuoti sopra la pergamena ok qui ci si vuota sopra la fiaschetta si capisce quanto basta però avrei fatto qualcosa di diverso per andare più chiaro più visivo e più dettagliato però si capisce come si trova l'illuminazione beh guarda tipicamente dipende sempre da posto a posto tipicamente a destra della porta quando entri può essere a sinistra però qualche volta è fuori o in entrambi i casi ok si fa così in caso l'illuminazione non arrivi così hai due possibilità o cambi religione te ne serve un'altra o filosofia per raggiungere l'illuminazione o vai a verificare il quadro all'ingresso che magari sia abbassato l'interruttore ok qui si trova l'illuminazione e poi torna l'interruttore di prima unisco le mani non lo sanno nemmeno gli dei rinascere nel samsara che cazzo è sta roba lui dice come si trova l'illuminazione poi a capo unisco le mani non lo sanno nemmeno ma così sembra che parla in due se è la fiammella che sta parlando non si capisce un cazzo se è qualcuno che sta parlando non si capisce un cazzo se è lui che parla devi fare tutto in riga come si trova l'illuminazione unisco le mani non lo sanno nemmeno gli dei rinascere nel samsara lui si domanda e poi si risponde da solo sì mi sta bene solo che se lo fai così facendo una cosa che è tipica di due persone ci dà l'idea che è sbagliato a scrivere se è lui che fa da solo metti tutto sulla stessa riga non è difficile il cerchio del sigillo sporge dalla pergamena e avvolge la fiamma il cerchio del sigillo sporge dalla pergamena e avvolge la fiamma vabbè si compatta formando l'uovo di Nag ok dai che si capisce l'uovo di Nag è semplicemente un uovo dobbiamo vedere quello va bene quindi ok l'uovo di Nag ha la forma di un uovo ma è di Nag il rito ha funzionato quest'incubo d'inverno sta per finire ok prendo l'uovo tra il pollice e l'indice e soffio via la cenere dalla superficie dorata ecco se ci facevi capire meglio come era fatto l'uovo prima era meglio però va bene anche adesso l'hai introdotto da pochissimo adesso usi il dettaglio e quindi sappiamo che è coperto di cenere ma sotto è dorato io avrei magari fatto capire che è fatto di cenere prima ok tipo il cerchio di sigillo spoggia a pergamene e avvolge la fiamma e avvolge la fiamma e quindi essendo un cerchio dà la forma di formare un cilindro giusto perché se il cerchio si sporge forma un cilindro ok e avvolge la fiamma e a quel punto faccio il cilindro di cenere si compatta formando l'uovo di nag si richiude e si compatta formando l'uovo di nag cioè aver introdotto cenere nella costruzione di questa parte poi non conta come lo fai tu le trovi un qualcosa e metticelo così abbiamo già un aspetto ok poi adesso lui soffia via la cenere dalla superficie orata ok comunque va bene anche così non c'è problema lo mando giù vuol dire lo ingoglio intendi questo era più chiaro se metti apro la bocca lo ingoglio apro la bocca e lo mando giù oppure me lo metto in bocca e lo mando giù cioè lo mando giù e basta senza che si è smesso in bocca se ti salti cioè non è immediato che tu trovi un uovo d'oro e te lo butti in gola come un'oca perché tipo vuoi morire ok aggiungici il passaggio che manca può essere anche sensoriale che lo stringe tra i denti magari per verificare che sia corretto e poi lo ingoglio veniamo dentro alla questione questa cosa dell'ingoglio è importante il suono del sacro gong mi assorda perdo l'equilibrio e cado per terra cioè questo mangio un uovo e quindi di conseguenza un sacro gong che cazzo vuol dire donna santa ma perché una vampata di calore sale dal mio bacino fino al cuore che si mette a battere all'impazzata costruzioni goffe fino al cuore che si mette a battere all'impazzata ma se ti sta battendo il cuore all'impazzato lo percepisci in questo modo asettico con una costruzione fino al cuore che si mette a battere all'impazzata ma costruisci separato una vampata di calore mi infiamma il bacino sale attraverso lo stomaco no una vampata di calore mi si accende nel bacino sale bruciandomi lo stomaco sale lungo sale bruciandomi l'intestino si conficca nello stomaco avvolge i polmoni afferra il cuore e mi afferra e avvolge i polmoni una cosa così fa risalire proprio l'effetto poi punto niente il cuore che è un cazzo va direttamente sul cuore il cuore batte all'impazzato vabbè è cliché il cuore mi martella nel petto però costruisci mi cazzo la vampata che sale fammi sentire la roba ok ho verificato non aver lasciato un commento acceso ok hai capito come cazzo si fa non è difficile dai un ragazzo con un cap sì no ho sbagliato nel cielo una fiamma blu cade verso di me si ferma a mezzare e sparisce di colpo anche qui avevi fatto una fiamma blu si accende nel cielo e poi fai la costruzione della fiamma che si avvicina la fai bloccare a un palmo dal suo naso lui magari allunga la mano e questa svanisce costruisci costruisci tu mi dirai ma ho soltanto 400 parole e allora non fare questo testo se non è lo spazio voi ancora non avete capito una cosa che io vi ripeto ossessivamente nel corso del tempo che tu devi fare un cazzo di testo e dono nello spazio che hai che è il problema dei racconti perché mettiamo che tu mi dici voglio partecipare a un concorso per racconti di mille parole e tu hai un testo che ne richiede 3000 e allora cosa fai riassumi tagli pezzi e fai uno schifo per stare nelle mille no tu devi scrivere tutto il testo necessario da scrivere ok poi se per puro caso ricade nei limiti necessari va bene per quel concorso o va bene per questo esercizio ma non mi fai un testo che ti richiede 700 parole 800 parole e poi le tagli a cazzo per stare in 400 perché è automaticamente sbagliato io passerò il tempo dicendoti che mancano dei pezzi ne fai un altro fai un testo che è scritto in modo completo che è scritto esattamente tutto quello che deve scrivere e che guarda caso gli bastano 400 parole così che si fa voi non avete ancora capito come funziona la scrittura si scrive qualcosa che ha la lunghezza che deve avere qualunque sia se questa lunghezza rispecchia certi criteri lo si invia per i limiti di quei criteri ma non dovete mai ridurre un testo a una lunghezza specifica rovinandolo e poi vi domandate perché fare i racconti è un problema non avete alcun controllo su quanto scrivete e volete cominciare partendo con gente che vi dice mandami 700 parole o mandami 2000 parole oddio già si dico mandami 7000 parole è già più facile poi magari a questo punto vi siete ciula pensate oh mio dio 7000 parole sono tantissime e progettate un romanzo breve da 30.000 e poi lo fate stare ammartellate in 30 non si capisce niente e poi vi stupite che gli elfi hanno lasciato la terra di mezzo e sono partiti via cioè scrivete in sto modo voglio dire a un certo punto se ne vanno via tutti bene signori un ragazzo con un cappotto blu mi tende la mano sì qui anche qui lo fai costruisci bene e fai vedere la fiamma che svanisce appare sto ragazzo alle orecchie tappate da due oggetti bianchi oggetti bianchi che non riconosce anche qui non riconosce neanche vagamente la forma se non riconoscesse cosa sono perché li vede come due tappi ma poi sono alto lo diresti oggetti bianchi va bene se immagino dei pianoforti bianchi va bene ha detto oggetti va bene comunque cosa pianoforti ok alle orecchie tappate a due pianoforti bianchi com'è la scena non è buona allora vedi che è scritta una stronzata allora invece dei pianoforti incudini lance pallone a calcio unga munga unga munga tenuti in mano da guerrieri huga buga pagine gialle però bianche pagine bianche cioè veramente veramente ti vanno tutti bene perché sono oggetti ma svegliati alzati mi aggrappa a lui tu sei il dio serpente si toglie un tappo da orecchio ecco i famosi oggetti che tappava orecchie erano dei tappi poi magari fa vedere il dettaglio che in realtà sono delle chiavi ma cazzo tappi 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 che ci voleva neanche scritto dopo svegliati eh questo è molto comico se non è un romanzo comico non va bene per avvisarti ispiro a fondo tu sei nag annuisce sì zio non c'è bisogno di urlare avevo solo il volume troppo alto bello zio sarà qualche onorifico in lingua divina sì di qualche coatto mi inchino io sono arin scalatore reale mi facendo ad alzarmi se io fa così ce l'ho ad alzarti alzati alzati zio alzati bene perlomeno abbiamo perlomeno sappiamo che è probabilmente un testo comico quindi ci sta bene l'è poi viene chiarito che l'idea non è sicuramente di fare una roba seria perlomeno non qui a posto carino il finale così a cazzo il resto del testo è scritto in un modo che fa rimpiangere che non siamo arrivati alla terza guerra mondiale con le armi nucleari però vediamo un po' i vostri commenti bellissimi in tempo per il secondo brano bravo però brano si scrive BR a posto fuano capisci perché così coglie il vero significato del brano c'è il dettaglio micro dei peli ma ancora non sappiamo bene dove siamo io l'ho premesso dopo per far capire bla bla ok si è tutta una merda la scena di arrampicata non si capisce un cazzo ma è proprio un merda suppurata poi dopo guardiamo qualche dettaglio ma l'avete visto come sta messo il testo anche perché quello che conta è soprattutto questo come dice Laura non ha minimamente reso l'ambientazione ha inserito luoghi seb che sarebbe senza far capire dove si trova ma in realtà non si capisce un cazzo di come ha gestito la neve un discorso diverso infatti io non sto capendo se i fiocchi e neve sono immobili o se si muovono invece i fiocchi e neve finiscono in faccia ma sono sospesi e doveva fare l'effetto tendina sarà quello in realtà non sappiamo niente perché è scritto da merda è scritto talmente male che non sappiamo neanche cosa correggere letteralmente e Andrea dice come fa a piantare dei picconi sulla nuda roccia non lo so non lo so letteralmente immagino che li infila nelle fenditure non che faccia una roba da videogioco con la gente che perfora la roccia e così tanto la potesse anche appendere penso che li conficchi tra una roccia e l'altra dentro delle fessure non lo so non lo so questi picconi poi immagino sono quelli da arrampicata che non so come si chiamano però nel dubbio va bene così questi cazzi certo se amici piccoli non penso ai picconi e basta però magari il termine è giusto e quindi va bene se si chiamano piccone da arrampicata è giusto di sicuro poi non so come si chiamano non che me ne freghi un cazzo visto che non è questo il problema ma se puoi fare che i neve sono di neve non sono ghiacciati la neve tendenzialmente è molto fredda quindi la sensazione di ghiacciato ce l'hai considera che puoi averla con un bicchiere che ha dentro semplicemente dell'acqua con del ghiaccio ed è molto freddo e si usa ghiacciato in italiano non si capisce molto siamo fuori dal punto di vista non me ne frega un cazzo srotolo la k47 grande topo perché il principiante esploso perché l'inchioso non è scrostato boh ok srotolo il dio serpente schizzo un cerchio perfetto va più senso srotolo il dio serpente schizzo un cerchio è dopo riguardo non ho capito che cazzo sta a dire dopo riguardo forse come si trova l'illuminazione voleva essere un pensiero boh non lo so credo di no perché l'ha messo come una battuta se voleva fare un pensiero semplicemente non metteva un cazzo di niente di quella roba io avrei mostrato l'uovo prima di dire che è l'uovo di nag sì basta fare quella cosina con la cenere che ti avevo detto sarà qualche onorifico cosa titolo non capisco il commento si riferiva a quello che dice Ziona i picconi per rampicanti sono rampini rampini non è che è l'altra cosa mi fa una piccata sui rampini ok pensavo fosse un'altra cosa se non sbaglio è una piccata contro i piccoli è una tecnica moderna prima viene effettuata in maniera diversa oddio è l'ambientazione magari moderna che cazzo ne so cioè magari è un mondo fantastico in cui hanno i picconi di arrampicata fanno la cosa di piantare i chiodi fanno le fuli fanno tutte le varie puttanate strane non che ce ne freghi un cazzo però sì può essere quindi dice che lui che si arrampica con due picconi evoca l'idea di un'ambientazione non particolarmente antica giusto? buono buono può essere l'importante è se l'autore stava immaginando che è ambientata all'età del bronzo nel medioevo potrebbe essere un problema allora quindi se lo può segnare adesso veramente devo vedere di nuovo questo testo abominevole o posso lasciar stare perché tipo mi sta per cadere il buco del culo da fronte ah dopo dicevo onorifico è un aggettivo no intendeva proprio gli onorifici presente in giapponese Chan Kun quello è un onorifico che si dice proprio onorifico fine che immagino su tintenda termine onorifico non lo so onorifico va bene si usa mi sono un po' strano con la cosa di zio io avrei usato un altro termine a posto di onorifico magari avevo usato per esteso un titolo onorifico tipo mio signore zio una cosa così l'ambientazione è abbastanza moderna perché nag abbia degli auricolari pure senza fili credo c'è un problema il tizio evocato che parla come un coatto e ha gli auricolari che l'altro non nota l'altro non gli nota cioè quello che viene da questa ambientazione quello che si è rampicato con questi picconi non ha riconosciuto gli auricolari e non ha riconosciuto uno che parla in slang dicendo zio sebb è un'ambientazione che non è la nostra con effetto isekai e il tizio che arriva in un altro mondo che è il nostro e parla come un coglione fondamentalmente l'impressione è questa ok non c'ho voglia di reagire a sta merda tanto abbiamo già visto che è proprio mia il vento freddo sposta la pelliccia dal cappuccio i peli mi si infilò nella bocca mi metto a sputare non è granché anche perché più che vento freddo fare sentire il freddo quando si schiaccia contro la pelliccia non sente il freddo perché evidentemente ha una pelliccia molto pesante il nostro vento freddo va una sensazione gli si infila nel colletto gli gela qualcosa c'ha il naso ghiacciato fai qualcosa facci vedere qualcosa ok non dirci solo che è freddo facci sentire freddo ok sì ma si saltano le parole cioè quando dici onorifici intendi quelli quindi sì poi come ho detto io puoi specificare titolo onorifico per rendere più chiaro ma in italiano esiste questa cosa che tante volte puoi togliere una parola e nel linguaggio comune si toglie una parola è semplicemente l'uso della lingua è presente cioè funziona in molti modi la lingua italiana presente quando dice bevo un bicchiere non bevi il vetro è un bicchiere d'acqua non è fatto d'acqua contiene l'acqua cioè pieno di queste cose strane l'uso normale delle lingue come la cosa dell'avere che è una forma sostantivo più aggettivo si toglie il sostantivo si lascia l'aggettivo guardate che nell'uso quotidiano lo fate tutti i giorni continuamente fatevi gli esempi da soli lo usate ogni giorno ok oh grazie è arrivato oh John grazie piccozza con 2c piccozza non piccozza no giusto piccozza era John con 2c quello dove chiamarlo lui da scalatore bravo piccozza era questo mi sembrava che piccone mi suonava strano piccozza da arrampicato come cazzo si chiamano ci sono anche altri nomi c'è qualcosa che non mi suonava in piccone grazie John poteva dire che ha lo scoto ghiacciato oddio magari aveva usato altre cose il naso le orecchie secondo me lui è fuori di testa delle visioni il nipote è stato mandato a riportarla a casa buona interpretazione Alessandra mi piace come lo vedi in questo caso mi sembra suonimale io mi ho fatto titolo onorifico anche perché vogliamo rendere chiaro che lui interpreta zio come se fosse mio signore o padrone potente scalatore cazzo non so qui lui ha fatto titolo onorifico quindi ti do ragione sul cambiarlo ma di per sé non era un problema che classica situazione italiana abbia tolto una parola e tenuto soltanto l'altra ok i piccoli dell'arrampicata si chiamano piccozze con accio o con due però porca troia che c'ho il dubbio si usano solo su pareti ricoperte di ghiaccio buono piantare su roccia è impossibile sono d'accordo nelle fessure da roccia vengono infilate altre attrezze a scattare ah ne usano altre nelle fessure di roccia ok come si chiamano le cose che si mettono nelle fessure di roccia invece che nel ghiaccio forse in un videogame la sensazione è un po' quella va bene il testo fa veramente cagare poi perché dici il rampino non funzionerà mai altra cosa non ho capito cioè lui non vuoi lanciare la corda col rampino vabbè perché non c'è niente su cui possa fare presa immagino quindi non c'è un cornicione fatto di barra di metallo in cui si può afferrare non c'è qualcosa che possa agganciare il rampino dovrò fare la vecchia maniera vabbè sti cazzi tiro fuori le piccozze dalla cintura che vuol dire mi aggrappo con le gambe non ci capisco un cazzo in sto testo madonna ma si aggrappa con le gambe a cosa si schiaccia contro la petiroccia va bene il vento freddo sposta la pelliccia ok il rampino ma tanto il rampino funziona mai ma chi se ne frega cioè va bene cioè dice non si capisce nulla che manco sappiamo che vuole scalare questo è il problema lo capiamo dopo quindi questa frase non ha senso tira fuori i piccozze le conficca nella parete nel ghiaccio della parete nella parete di ghiaccio in sto cazzo poi sto mi aggrappo con le gambe ma ti aggrappa a cosa? a sto cazzo la sacca scrutale mi rimbalza sulla schiena resistiti prego resistiti prego a cosa? è una sacca c'è paura che non so la cinghia che gli tiene la sacca si spezzi perché dovrebbe spezzarsi? non è che la cinghia della sacca fa più fatica se tu ti arrampichi su una parete o se cammini dritto che sacca di merda è di che stai parlando? poi mi aggrappo con le gambe a cosa? che stai per scalare con le piccozze in una parete ti aggrappi con le gambe a cosa? buon dio mi allunghi artiglio la roccia più in alto altri quattro balzi balzi ma tu stai facendo con le piccozze o stai balzando come in un videogioco brutto tipo che fa il balzo e affonda le piccozze? che sta merda sei in Assassin's Creed? sei in Assassin gli ultimi neuroni che ti rimangono Creed? dai cazzo non ce la faccio a leggere sto schifo dopo abbiamo già visto la roba lui che si fa stare che fa chi ghiacciati male andrebbe mostrato in altro modo va bene mi arroti i coglioni è una schifezza sta cosa è uno schifo evitiamo di continuare di guardarlo tanto abbiamo già visto gli errori che ha allora qualcuno mi dia i nomi in italiano per queste cose qua ci sono in Nuti in Firenze ci sono alcuni in alluminio bla 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 ok va bene però ci serve l'equivalente termine italiano se dovessi usarlo in un mondo in cui non c'è l'inglese se non abbiamo un termine italiano perché siamo linguisticamente sottodimensionati handicappati eccetera eccetera può essere ci sono alcuni termini che non hanno l'equivalente italiano allora devi rendere la cosa e far capire cosa sono se non sarà mai il termine straniero perché c'è un problema se nel tuo mondo inventato in cui magari non c'è l'inglese usi termini inglese ok quindi trovatemi l'equivalente o altrimenti cambiate la scena per il resto grazie ad Andrea che ci ha sottolineato quali sarebbero i termini corretti nel nostro mondo ok piccozza con due c grande ok avete domande avete perso la voglia di vivere io un po' aspetto di perderla tutta ecco avessimo avuto un terzo un terzo testo potevo dire magari adesso la perdo tutta e invece no grazie al cielo ne facciamo soltanto due per volta chiodi d'arrampicata moschettoni piccozza ramponi cordo ok ma i cosi che sta dicendo Andrea come si chiamano avete domande? posso levarmi dai coglioni? vado a fare qualcos'altro? così talalto do anche il resto della serata libera alla consulente ilfica che stava sorvegliando cosa facevate e anche a lei non sono piaciuti questi testi? cioè vi si presenta vi si presenta la consulente ilfica così e voi gli fate leggere quei testi? io vi assicuro che voi dopo questo approccio iniziale al primo appuntamento non ci arrivate così a certo punto proponete anche dei testi conguri che poi la consulente ilfica vi voglia rincontrare a un certo punto voglio dire bene ho preso un po' di tempo ma non sono apparsi i commenti nuovi vi do ancora qualche secondo ok direi che siamo a posto non avete dubbi di nessun tipo se avete un dubbio veloce fate ecco non so se devo interpretarlo come una battuta o meno nel dubbio non lo interpreto io volevo salutare la fatina dietro la cam del duca ti ha salutato anche lei con il tipico gesto di fraternità e buon augurio che si fa alzando entrambi i diti medi delle mani è una cosa tipica della loro cultura topo chiede è possibile rivedere l'elfa nella sua interezza? sì è quella di Lineage 2 non mi ricordo il nome dell'artista che ha fatto il design era quella che hanno venduto che sono anni che vendono la trovate senza problemi in giro su Ibo 300 euro 250 non mi ricordo più quando l'ho presa io quanto veniva? 230 250 veniva su 300 non mi ricordo più grande acquisto assolutamente importantissimo in pratica mi ha detto di alzarmi come nel brano sì bene sì le consulenti elfiche sono molto poi è utile perché risponde tante volte è notato nelle live gli faccio domande e le risponde ovviamente non è che risponde alla statuina non è che sono scemo lo so che è una statuina ma tramite la statuina posso comunicare con la vera elfa che si trova non è che sono pazzo a parla con la statuina è pazzo è un mezzo per comunicare con l'altro mondo dove c'è veramente l'elfa che ci fa la consulente non è che sono scemo non lo spiego perché magari le prime volte che vede la live e non sa come funziona stasera sono arrivato tardi mi sono depresso ad ascoltare il secondo brano meno male che c'è l'assistente elfiche esatto la consulente elfiche va bene chiudiamo con questa richiesta cioè quella di vedere un po' di un po' di bellezza lucale e chiudiamo qui almeno che non si è arrivato a domanda intelligente c'è gente che comunica tutta la vita con le statue sì terribile è ancora più terribile da quando certa gente ha girato l'altare da lì alla tavola calda come diceva Don Camillo perché io l'altare posso sconciliare e non lo sopporto ok buonanotte Alessandra il duco usa l'elfe come il signor morto usa l'iguana è a citazione del l'en editing da volta scorsa per chi non c'era buon fine settimana bravo Patrick eh sempre duri e puri è sempre sabato pomeriggio vai buonanotte Salvatore ho seguito a casa e comunque ho imparato molto ma sono contento Sebastian allora magari recupera le altre live c'erano dei testi più interessanti di questi e molto più interessanti qui veramente stavolta la roba di teoria utile è veramente scarsa sono contento ti è stato utile però veramente troverai molte più cross nelle altre Notte Daniele Notte Ruka Metal Notte Topo Nick David Laura Notte Bruco Buzzicotto sì lo so che sei da Twitch ma stavolta non c'ho voglia di fare al solito schiaccio con i negromanti Notte Domenico basta ricordatevi l'offerta del Black Friday ricordate tutto quello che ho detto a inizio che non ha visto inizio la live e se lo risenta per l'offertina e le spiegazioni e le altre robe basta prossimo martedì faremo un nuovo live di esercizi credo eh poi magari se cambio idea ve lo dico altra cosa mi sto dimenticando di avvertire nella community di YouTube che faccio le live avverto la mailing list ma mi dimentico lì prossima volta cerco di non dimenticarmelo altre cose non mi vengono in mente prossima volta quasi sicuramente facciamo ancora esercizi e invece il 7 dicembre al 99% ci sarà una live con Marco Cresciz e parleremo di Venezia Metal ok notte a tutti e alla prossima e ai prossimi video ci sono un po' di video nei prossimi giorni vi divertirete ciao